Devo dire che Martina da dipendenza, di Jalis, vedete, insieme a te non ci sto più, sto vedendo, super facente Alice, mi piaceva anche Viola Valentino, Alice, Alice, vediamo Alice, Alice cantante, vedete, Carla Bissi, Carla, per Elisa, ha 27 anni, festival, un po' meteoro, Alice, molto bella, Viola Valentino, svolti da servizio, Viola Valentino, è smaguito Riccardo Poi, chi è Viola Valentino, Viola? classe 49, quindi, cavolo, 72 anni, eccola come erano, che belle che erano, eccolo qua, Riccardo Poi, come erano belle, Riccardo, a me piaceva Riccardo Poi, Luigi Tenco, il popolare Vocciotti, facciamo un omaggio a Sandro Sotti, ma poniamo le basi, per Elisa, grazie, grazie, grandissimo Luca Bello, posso coltivare i miei sogni con i personaggi di spettacolo, è il posto giusto per realizzare i miei sogni, Luca Bello, mi permette di realizzare i miei sogni, grazie Luca